atletica leggera salto in alto. Dobbiamo fare un altro passo indietro. Nel 1935 il partito nazionalsocialista fa approvare una legge. La Nürnberger Gesetze praticamente sono le norme razziali approvate a Nuremberg. Grazie a questa normativa si regolamenta la presenza dei tedeschi di origine ebraica all'interno di attività pubbliche. Quindi dovendo loro far vedere al resto del mondo che non c'erano le discriminazioni di nessun tipo, qualche atleta di razza ebrea, cittadino tedesco, appare in competizione. È il caso per esempio di Helen Meyer che era già scappata negli Stati Uniti e che viene fatta rientrare. Ma i libri non dicono tutta la verità, nel senso che questa non era completamente ebrea, anzi da un punto di vista ebraico non lo era proprio, perché la madre era tedesca ariana mentre il padre era ebreo e se tu non hai la mamma ebrea non sei ebreo. Quindi di fatto questo era uno status intermedio e che problema c'era. La nostra medaglia d'oro va a Gretel Bergman invece. Questa era ebrea in tutti i sensi, per parte materna e per parte paterna. Ma tedesca. Ma tedesca. Provenienza stoccarda. Benissimo nel preolimpico. La misura con cui si sarebbe vinta la gara dove lei avrebbe dovuto partecipare era quella che lei aveva ottenuto sei mesi prima delle olimpiadi. Avrebbe probabilmente vinto l'oro. A pochi giorni dall'inizio delle olimpiadi il comitato olimpico tedesco le comunica che lei non solo non parteciperà, ma che si tenga pronta perché è destinata a un campo di concentramento. Quella è la medaglia d'oro in assoluto che io penso sia più giusto dare. Tenendo presente che però in un ideale argento e bronzo c'è una storia per certi versi anche peggiore. Vi ricordate il nostro amico Avery Brondage che tra l'altro sospese rimandando indietro una delle sue migliori nuotatrici perché questa si era scolata a due bocce di champagne sul transatlantico che li portava di qua e ha detto tu con me non competi. E questa è stata rimandata a casa con questo criterio. Allora i giocatori delle future nazionali a BA lascia di stare. Ok ma questo è un altro discorso. Quest'uomo, il signor Brondage, di cui abbiamo già visto una certa tendenza all'antisesmitismo, al momento di mandare in pista la staffetta del 4% tolse due che si erano qualificati, erano tra i migliori sprinter, in quanto ebrei questi non potranno mai vincere la medaglia d'oro e andò con molta solerzia a informare il Reich e il Führer che lui aveva tolto ebrei per evitare che siccome questi avrebbero poi vinto si creasse un incidente diplomatico. Sì ma la storia di quei due ragazzi chi pensa? E sono uno dei casi che obiettivamente ti lasciano completamente basito. I due nomi, perché tanto dobbiamo indicarli, sono Sam Stroller e Marty Glickman. Argento e bronzo nella nostra altra medaglia.